e ciao a tutti ragazzi e benvenuti a tutti in questo nuovissimo video oggi ragazzi sono qui su squid game con sara sara scegli classic ecco ti ciao sara entra 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 sara entra 20 secondi dai 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 corri 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 si è entrata si perfetto ah non uscire sara non uscire allora ora ti voglio cercare ecco ti sara c'è scritto il nome sara mettiti all'angolo sara mettiti all'angolo e si incomincia si incomincia raghi mi dio mi dio qua io mi devo nascondere per forza ah player uff raghi qua non è non mi devo nascondere ah ok ok No ti Vai ragà Tanto sarà Amiga Ogoma Cipi Amiga Ogoma Cipi Amiga Ogoma Cipi L'ho fatta Ehi Sara Ci abbiamo fatta Dobbiamo arrivare alla fine vedi Non dobbiamo morire nemmeno in quello del biscotto Certo Saliamo saliamo sull'albero Ok vado di qua vai 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 Ok Ok ora salgo sulla mano Ok ora c'è quello del biscotto Sì no non sbaglio O no Sara dove sei Ma sì in quello verde Non ti trovo più Sara Vabbè stiamo separati mi dispiace Mi dispiace No No Oh Oh my god oh my god oh my god Oh my god Aghi please Help me Please 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 guys Oh Mamma Speriamo di non morire Speriamo di non morire Atteniamo 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 Dai Dai Oh sì Respawn Nel prossimo la prossima partita oh yes 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 ci godo raga ci godo ma ma ragazzi ma sono un'altra dai però Sara non siamo insieme non siamo insieme non siamo insieme uffa però raghi non siamo insieme però abbiamo sprecato tanto tempo a giocare abbiamo vinto però io sono morta perché mi hanno dato la spada e non ero attenta mffa ragazzi però questo è successo perché voi non avete lasciato like voi non vi siete iscritti e non avete nemmeno attivato la campanella quindi fatelo ora così dunque dai ripregatevi ragazzi fatelo tutti dai dai mettiamo 3 2 1 1 2 mamma mia che faccia raga ok ora dobbiamo di nuovo fare un'altra stella saremo guarda guarda frontman 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 dai 250 no grazie li potete pure tenere sì grazie sì mamma mia aspettiamo 3 1 o comagò tepia stannera o comagò tepia stannera o comagò tepia mannaggia mmm no ragazzi non ci credo di nuovo sarà morta vabbè raghi il video può anche finire qui e ci vediamo domani con un prossimo video ciao